allora questa è una news molto complicata da darvi anche perché ci sono delle questioni economiche e finanziarie di cui io non sono esperto dunque se dovessi dire delle castronerie per favore correggetemi qui sotto non me la prendo anzi va a beneficio di tutti avere un'informazione chiara pulita e soprattutto corretta ad ogni modo nello stesso documento nello stesso comunicato stampa che oggi la wb ha diramato quello che annunciava e confermava stephanie mcmahon e nick khan come co amministratori delegati e annunciava il nuovo ruolo di triple h come capo del creative in quel comunicato stampa la wb rendeva anche noto di aver trovato una somma non registrata nei bilanci dal 2006 ad oggi pari a 14,6 milioni di dollari soldi spesi da vince mcmahon che ricordiamolo al momento è sotto indagine interna è molto complicato venire a capo di questa situazione qui su fightful c'è un altro pezzo del puzzle ovvero la compagnia che ha compilato un modulo 8k che da quanto capisco è una dichiarazione di intenti condivisa con il mercato perché i bilanci degli scorsi anni nello specifico 2019 2020 2021 e primo trimestre del 2022 ora sono in fase di revisione e lo stesso vale per il bilancio del secondo trimestre dell'anno in corso che subirà un leggero slittamento per quanto riguarda la sua pubblicazione i dati economici erano molto alti sempre molto positivi e in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno prima però wwe che deve fare le cose corrette per tutelare se stessa e i suoi azionisti sta riguardando anche questi tre mesi fatto sta che qui c'è una spiegazione del perché wb ha compilato questo form che è un atto dovuto da quanto ho capito e io per non sbagliare ho usato google translate e ho fatto qualche leggero accorgimento di lingua italiana e cosa dice il virgolettato dice che la wb ha stabilito in via preliminare che alcuni pagamenti che vince mcmahon ha effettuato nel periodo dal 2006 al 2022 e che non sono stati registrati nel bilancio consolidato avrebbero dovuto esserlo come spese nei trimestri in cui tagli accordi sono stati stipulati alla data del presente documento la società ha identificato queste spese per un totale di circa 14,6 milioni di dollari tutti i pagamenti alla base di queste spese non registrate sono stati o saranno pagati personalmente da vince mcmahon quindi pare che vince mcmahon abbia pagato di tasca sua questi soldi ma che questi soldi dovevano essere comunque registrati nei bilanci aziendali io non sono un esperto di finanza non so dirvi dov'è la sgabola però andiamo a leggere quello che scrive brandon tourston questa è la firma principale di wrestling omics che è un sito che tratta di wrestling solo a livello economico innanzitutto qua sotto ci dicono che malgrado tutti stiano parlando di vince come retirement ritiro e o come resignation ma in realtà per ora la federazione è stata un po blanda nel vestire esattamente la parola di quello che ha fatto vince che potrebbe anche anche essersi solamente accantonato in vista di tempi migliori ma lasciamo stare questi cabilli e qui dice brandon che anche se vince mcmahon ha fatto i pagamenti connessi agli nda ovvero ti pago per non rivelare qualcosa non disclosure agreement ok quindi accordi per tenere la bocca cucita se li ha fatti anche se li ha fatti con i suoi soldi personali i settlements quindi gli stessi accordi l'essere arrivati a patti ha beneficiato la federazione per questo avrebbero dovuto essere registrati come spese faccio un esempio vado in via intuitiva vince mcmahon ha un rapporto con una donna boh non lo so invento fanno cose strane eccetera se venisse fuori gli rovinerebbe la reputazione o cavolo stiamo per rinnovare per entrare nelle contrattazioni di rinnovo dei programmi televisivi scoppia lo scandalo il nostro potere di persuasione per ricollocarci sul mercato magari ottenendo delle offerte a rialzo potrebbe diminuire allora pago il tuo silenzio mi garantisco che in quel cuscinetto di tempo e da lì in poi per sempre non trapeli nulla alla stampa io dormo tra due guanciali le trattative non vengono funestate da queste voci io vendo la wwe i diritti a prezzi concorrenziali tendenti verso l'alto esattamente per come desideravo ci fosse stato lo scandalo magari qualche emittente non avrebbe partecipato all'asta o si sarebbe tenuta distante da quel prodotto non volendone essere associata quindi qui dice brandon turston che questi accordi che hanno salvato per certi versi o oscurato salvato la reputazione o oscurato dei delle scappatelle chissà che altro non lo sappiamo di Vince McMahon comunque hanno portato dei vantaggi alla wwe per questo è possibile ritenere e il board dei direttori o comunque le indagini in corso sembrano ritenere che queste spese dovevano essere scritte e messe a bilancio anche se il denaro per pagarle è arrivato o arriverà perché alcuni accordi sono ancora in corso è arrivato o arriverà dalle tasche di Vince è molto molto complicata come vi dicevo questa faccenda e probabilmente a questo punto visto che la situazione è molto fresca non è da escludersi ma questa non è una notizia è un'ipotesi non è da escludersi che Vince sapesse che fosse in arrivo questa roba è che la stessa wwe che ha degli obblighi verso gli azionisti non è a uma uma e tutta famiglia no sapeva che doveva la federazione rendere conto ai medesimi condividendo le sue scoperte e di conseguenza ecco il passo di lato queste teoriche dimissioni questo teorico ritiro in attesa di tempi migliori oppure definitivo qualora la burrasca si ingrossasse questa è la situazione attuale io non riesco a spiegarvela meglio se nei commenti mi date una mano ve ne sono molto grato al momento comunque spero confido di avervi dipinto un attimo il quadro grazie a tutti